Buongiorno! Buongiorno! Allora, dove abbiamo? Allora, posso avere un tè di menta? Ho finito la season in october, ho fatto un po' di viaggio, da Australia a Cambogia, Malasia, Guadalupe, e poi ho tornato a Europa, a casa per 5 giorni, e ora ho iniziato un'altra season. Qual è la prima volta? Da i classici rai, è la migliore del Velve, perché ho sentito molto bene tutto il giorno, e nel finito, ho vinto. Ma in futuro, la migliore del classico, che voglio, è Flanders. Che ho fatto è molto bene, perché nel secondo giro è molto bene, e io sono più piccolo. Fabian è più grande, e ha più esperienza, con questa rai, magari potrei vincere in futuro, e vediamo. Dove vi speranami Adesso? Io ho fatto anche pari di Roubaix, due anni, ma sono stato... due anni prima, ero la professione, e era un po' difficile per me. Mi piace questa rai, è un rai molto difficile, per una forte ragione, ma... Ma vediamo dopo, la Flanders. Qual è la prima volta? Siamo una squadra molto forte, perché è anche una squadra di nuovi ritori. Come vediamo nel corso, abbiamo una squadra molto forte quando siamo insieme. È un altro obiettivo molto importante per me. La Tour de France è una speciale corso. Quando sono a la Tour, voglio fare qualcosa per i fans, per le persone. E poi voglio finire la Tour con qualcosa in mano. È la migliore bicicletta del mondo. Perché per il normale corso, abbiamo usato l'Evo. Tutti sono all'interno. E poi per la Classica, abbiamo usato l'Synapse. E poi abbiamo usato il nostro corso. Questo è un'altra bianca. E' un'altra bianca. E' un'altra bianca. È un'altra bianca per questa rata. C'è stato un'altra bianca per la pranzia. Questo, non mi fa mai attrappare le miei anni. Non ti ho dei stressi nessuno. Non troppo di 소�ene. E, per ora, mi piacere questo. E, per ora, mi spiege bene. Grazie a tutti.